Ciao a tutti, sono Davide Pallo, Grillmaster Weber e titolare del ristorante Pallos Grill & Barbecue. Griglieremo per voi una ribai di danese rossa e una flat iron di manzo di montagna, utilizzando uno smoke fired Weber e la griglia di rosolatura Weber Crafted. Utilizzeremo pochissimi ingredienti, oltre al nostro manzo di eccellente qualità mi raccomando, un po' di olio di semi e un po' di rub SPG, quindi sale e pepe aglio, semplicissimo. Bene ragazzi, facciamo uscire da Smoke Fire le nostre bianche, le bistecche, la ribai l'abbiamo posata a circa 50 gradi, quindi una cottura al sangue, mentre per la flat iron, ma solo a miei gusti, mi sono fermato un po' prima sui 45-46 gradi, perché è un taglio che merita veramente di essere mangiato al sangue. Bene ragazzi, abbiamo andato fuori le nostre bistecche, mi raccomando con la flat iron, essendo un pezzo che ha le fibre molto lunghe, di fare sempre il taglio perpendicolare alle fibre, risulterà molto più morbida. Ora non ci detta che assaggiare queste delizie e che dirvi, vi aspetto alla prossima ricetta!